È l'anno della misericordia, un dono concesso agli aquilani al mondo da Papa Francesco in occasione della sua visita all'Aquila per la perdonanza lo scorso 28 agosto per aprire la Porta Santa. L'indulgenza concessa per un anno intero, una perdonanza annuale dunque da vivere intensamente, con sentimenti cristiani e di fratellanza. Un augurio importante è quello del Cardinale Giuseppe Petrocchi per il Natale, che l'anno della misericordia sia l'anno della pace. L'anno della misericordia è un dono speciale di Papa Francesco, è il prolungamento della perdonanza. Il grande messaggio di Celestino V, che ha valore universale, è stato ripreso da Papa Francesco e proiettato a livello planetario. La perdonanza quest'anno incrocia inevitabilmente il tema della pace, perché purtroppo la nostra coscienza è lacerata dalle notizie di guerre che continuano ad operare devastazioni e di conflitti che si accendono nuovi in altre località. La giustizia senza misericordia diventa aspra, diventa tagliente, diventa vendicativa, si trasforma in rappresaglia, in rivalza. Quindi non fa il bene, non ripristina l'ordine che è stato violato, non è in grado di guarire le ferite che sono state provocate dagli egoismi. Ecco perché è la misericordia che consente di fare giustizia e la giustizia apre alla pace. Allora l'anno della misericordia diventi per tutto e per tutti l'anno della pace.